La centrale elettrica La centrale elettrica ha 2 metri di diametro, 8 di lunghezza e pesa ben 180 tonnellate Vagone e carico raggiungono complessivamente le 270 tonnellate, ovvero sia un peso di 8 autotreni con rimorchio Ed eccoci a Genova, entro un paio di mesi la modernissima centrale elettrica potrà entrare in funzione ed erogherà 300.000 kilowatt, contribuendo così al potenziamento dell'industria italiana Grazie